Ciao, buongiorno, come va? Ma sì, dai, andiamo avanti, speriamo che finisca presto questi domiciliari che non ce la facciamo più di Lorenzo. Anche tu sei a casa, chiuso in casa, mi raccomando. Eh beh, certo, io ormai sono 40 giorni che non esco di casa, faccio tutto online e quindi... Però penso che siamo, diciamo, agli sgoccioli, dai, ci siamo quasi. Speriamo veramente tanto. Allora, dai, cosa ci hai portato quest'oggi? Vuoi farmi prima una panoramica dei mercati o andiamo subito a bomba sulle strategie? Guarda, se posso, proprio una considerazione veloce su due temi che secondo me sono interessanti su cui fare una riflessione. Il primo, Emmerich, sono i volumi che sono veramente all'umicino. Tu che sei una persona autorevole nel nostro ambiente, secondo me, insomma, è giusto anche rimarcare che si fa fatica così, nel senso che il future italiano... Guarda, 1873 contratti finora scambiati sul derivato. Io, dei dati del genere, alle 10.55 non li ho mai visti. Io li vedevo in 1873 forse nella prima mezz'ora di contrattazione ai tempi quando, insomma, prima di tutto... Diciamo, sei mesi fa, tocco. Io ormai prendo quel lasso di tempo lì come raffronto rispetto agli ultimi mesi dove è successo di tutto. Il discorso è questo. Non è solo una questione di oggi. Da quando sostanzialmente c'è stato il ban short, noi andiamo a fare 7.000 contratti al giorno, che è una cosa veramente, come dire, senza parole. Il controvalore di piazza affari va su un miliardo e mezzo al giorno, che anche qui è troppo basso per rendere questo mercato intrigante. Quindi il primo tema è questo qui. Sul mercato così il liquido si fa fatica perché i falsi segnali aumentano, perché con due spicci mandi su e giù i titoli e quindi diventa complicato. Quindi la prima riflessione è su questo. Quindi occhio perché con volumi così sul mercato italiano si fa fatica. E occhio a Borsa Italiana perché se continua così, tanti trader purtroppo devono migrare altrove perché qui non ci sono opportunità. Seconda considerazione, ne hai parlato tutti, seguivo su quello che è successo ieri, alla fine come al solito l'elefante ha partorito il topolino. Siamo sempre sugli stessi livelli in Europa, non si riesce a fare uno scatto di rapidità. E la terza considerazione, occhio al petrolio, mi arrivano decine di messaggi ogni giorno sul petrolio. Diciamo che, Emerick, l'abbiamo visto tutto, abbiamo visto le obbligazioni in cui io ti devo pagare e c'è rendimento negativo. Abbiamo visto il petrolio che è sotto zero. Insomma, non mi viene in mente più una cosa. Ma te l'ho già detto, io sono andato l'altro giorno, ho fatto il pieno di benzina, poi io ho detto grazie benzinaio, adesso mi dia anche 50 euro. Ma non ha capito la battuta, mi sa. No, però se ci pensiamo, Emerick, immagini se due anni fa facciamo una trasmissione del genere, dicevo, immagino che i rendimenti negativi e obbligazioni, quindi io compro un'obbligazione e devo pagare. Il prezzo del petrolio è anche in negativo, tu chiamavi il TSO immediato per me e facevi pure bene, perché veramente stiamo vedendo delle robe veramente assurde. Detteciò, insomma, questo è il nostro mestiere, bisogna adattarsi davvignanamente agli scenari che cambiano. Ci sono cose che devo ammettere che stanno facendo la storia e noi stiamo vivendo cose che molto probabilmente poi saranno che i stadi nei prossimi anni. Io è per quello che quando dico, quando ci sono tanti telespettatori che mi mandano gli sms, ah ho cominciato a fare trading per la volatilità, ecco, questo non è il momento per cominciare a fare trading, ma è il momento per osservare quello che sta succedendo, perché sono cose che non sono mai successe. Insomma, è molto interessante, lato, ma non è proprio il momento, anche perché i professionisti, come anche Pietro Di Lorenzo, immagino stanno facendo molta fatica a operare, credetemi. No, assolutamente sì, ma... Professionisti in serie con i fiocchi. Ma guarda, Emeric, vuoi sapere quanti eseguiti ho fatto stamattina? Tre eseguiti, che per me, cioè, tre eseguiti vuol dire che a questo punto che mi sono svegliato a fare stamattina, cioè, non trovo niente, uno dice, ah beh, sto a letto, tanto che c'è da fare. Vabbè, è un piccolo sfogo, però secondo me è un tema importante, perché a parte scherzi, la liquidità e il prerequisito per l'efficienza, se non abbiamo un mercato nazionale efficiente è un problema per tutti, secondo me. Eh sì, questo comunque immagino che buona parte del calo dei volumi sia dovuto al fatto del ban degli short, e lì quello ha impattato tanto, quindi magari dal 18 di giugno si ritornerà con dei livelli comunque molto bassi, poi se li raffrontiamo al DAX sono veramente quasi inutili i volumi che registriamo noi rispetto a altri mercati. Però va bene, dai, oramai il discorso è questo, speriamo che cambi, che ci sia più liquidità e sia più facile per operare. Invece, strategie, cosa ci hai portato? Strategie, sì, bene, allora oggi ho portato strategie diversificate su tre mercati con una logica, diciamo, di buon senso di andare in Italia, in Germania e negli Stati Uniti. DE000HV44774 è il primo certificato, diciamo, diamo precedenza a Piazza Affari senza bistrattarla. Qui abbiamo un'idea carina su Prismian, stamattina fra l'altro ha fatto un movimento, l'unico movimento, un minimo carino per l'intraday, nel senso che se vedi era molto debole e poi ha guadagnato forza relativa. In realtà ha spinto anche qui molto dai software e questo sarebbe un altro tema interessante. Va bene, perché mi piace? Perché le scadenze sono vicine, 18.06 la chiusura del certificato e quindi la scadenza e quindi andiamo sempre su orizzonti corti. Quindi tutto sommato c'è da aspettare 50 giorni e la cosa interessante è, come al solito, la barriera che è posizionata, diciamo, abbastanza profonda, quindi al 27%, che è una cosa, insomma, interessante, nel senso che se il titolo non perde il 27%, anzi più del 27%, ti porti a casa quasi il 6% e quindi considerando la scadenza così breve, insomma, è un'opportunità, secondo me, interessante, anche stamane che è andato ancora più giù. Quindi questo, insomma, il disco a rendimento, secondo me, qui ha molto senso, c'è uno spread ragionevole e quindi questa è la prima idea. Quindi qua si sta parlando di circa un 5, qualche cosa per cento, a fronte di una barriera a 11.36, che magari, visto che ci siamo, abbiamo un secondino, andiamo a vedere anche il titolo Prismia nell'evoluzione, per vedere la barriera dove è posizionata. Allora, dicevamo una barriera a, cos'era, ricordami? Il livello di barriera a 11.37, 11.37, 11.37. Beh, questo non è male a dire, cioè, quanto è giugno? Due mesi neanche? Sì. Molto interessante questo qua, un 5% così nell'arco di due mesi, siamo sotto, tra l'altro, al 12.5, che è un supporto molto importante, ma ce ne sono tanti altri, sotto i 15, anche i 15 euro, che sono il primo supporto di brevissimo, è molto importante e non, insomma, è un bel supportone. Poi c'è da andare a rompere il 13.50, poi scendiamo direttamente sul 12.50, però è un bel salto, c'è qualcosina nel frattempo, e poi si va al livello di supporto. Eh no, questo forse, tra tutti quelli che ho visto oggi, è il più interessante. Breve periodo, 5%, questo lo spiega. 5.5, sì. Devo dire, sai che me lo sono guardato bene perché mi sembrava esagerato, diciamo, il frittempo. Infatti, non riesco neanche... Ma quando è stato emesso questo qua? Magari è stato emesso un po' di tempo fa. Vabbè, marzo del 2019, eh, attenzione, qua è un altro mondo. Bello, bello questo qua, mi piace, assolutamente. Sì, questo qua, credimi, l'ho guardato 20 minuti perché ho detto, strana sta cosa, non riesco a afferrare. Sai, la deformazione professionale ti porta, quando le cose sono troppo belle, sempre a dire, c'è qualcosa che mi sfugge. Questa è un po', diciamo, l'approccio che inevitabilmente c'hai dopo molti anni. Ok, questo è il primo. Il secondo, invece, andiamo sul mercato americano, DE000HV45RomaHotel0. Qui cambiamo il tipo di prodotto. Un bel quanto, attenzione. Quanto vuol dire, diciamo, sterilizzazione del cambio, sostanzialmente, cioè non ti sobarchi il rischio cambio, paghi per... Allora, guardate, impariamo a leggere la definizione tutta quanta. Questo è un cash collect, autocallable worst of quanto su paniere composto da Facebook, Netflix e basta. Cosa vuol dire? Un cash collect è uno di quelli che ti dà le cedole, un prodotto che ti dà, in base a scadenze temporali, delle cedole. L'autocallable, che c'è la possibilità di essere richiamato in anticipato. Il worst of quanto, che praticamente è un paniere eggiato dal rischio cambio, perché il quanto è il rischio cambio. E così, tu, insomma, leggendo già il titolo del prodotto riesci a capire di cosa si tratta. Dunque, quali sono le caratteristiche? Sì, le caratteristiche qui giochiamo, diciamo, sul solito, diciamo, prospettiva che questi titoli tipicamente possono beneficiare nel tempo di quella che è la situazione di lockdown. Il certificato, questa volta, ci dobbiamo avere una scadenza un po' più lunga, perché è scadenza 15 dicembre 2021. Ti offre, però, la cosa che mi piaceva, delle cedole semestrali che sono interessanti. 4,8 è una cedola che, insomma, soprattutto di questi tempi dà certamente delle garanzie interessanti. Questo in realtà era un certificato che nasceva con una maxi cedola iniziale. Tipicamente serviva anche un po' per ottimizzare il discorso fiscale. Però in questo momento mi sembra interessante, perché i cedolone dal 4,8 sono interessanti. Poi, come dicevi tu, correttamente c'è l'autocall, che vuol dire che se ci sono particolari condizioni, cioè il titolo va sopra lo strike nelle scadenze che sono 17 giugno-16 dicembre 2020 e poi di nuovo 16 giugno 2021, il prodotto viene richiamato e Amen lo paga a 100, cioè viene richiamato a 100. Tu adesso lo paghi, adesso il lettera sta a 92,62, quindi magari. L'unica criticità è che c'è da sapere che le cedole non sono a memoria. Qui complichiamo ulteriormente la situazione. Nel senso che se una cedola non verrà staccata il 17 giugno, nella scadenza successiva, qualora presenti le condizioni per lo stacco cedola, prendi solo l'ultima cedola e non le precedenti. Questo è un certificato forse necessita un po' più di, insomma, a varie sfaccettature, però è interessante per chi ha un rendimento periodico e per chi crede che Netflix, dopo i numeri straordinari che ha fatto, non so se hai visto i numeri veramente impressionanti, e Facebook tipicamente un evergreen, non penso che, diciamo, non mi aspetto grosse debacle. Certo, se tutti fossero social come te ce ne sarebbero, però non credo che quella la reazione. Senti, allora, facciamo una cosa, ti interrompo un secondino perché c'ho un sms, consigli se vende e ottenere il certificato, anzi andiamola a vedere assieme, dai, segnatelo un po', così è il certificato di un nostro telespettatore, è il DE000HV4C4H6. Allora, stiamo parlando di un... H6. Uh, questo qua è un cash collect, andiamolo ad analizzare, poi io non vi dico se vendere o ottenere, io vi dico lo analizziamo, poi decidete voi, insomma. Questo qua è un cash collect, te lo sei segnato, Pietro? Io se lo sto guardando, Wastoff, Maxi Cedola, sul paniere composto a Santander. Wastoff, Autocollable, Maxi Cedola, sul Santander, BNP, Intesa San Paolo. C'è già, mi sembra un po' troppo sovraesposto sulle banche, un prodotto simile, però d'altronde è un paniere sulle banche, quindi ci sta. 51,35, il nostro telespettatore ce l'ha in carica 89 addirittura, ma quando l'ha acquistato, perché questo qua deve essere uno... Beh, data di regolamento il 17.02.2020, quindi è abbastanza recente come prodotto. E come fai a scontare già un prezzo del genere? Vabbè, sì, effettivamente con quello che è successo sulle banche nell'ultimo mese e mezzo, effettivamente ci sta. Guarda, Emmerich, si vede subito, rispetto al fixing iniziale in Tesa, Santander e BNP hanno perso il 50 e in Tesa San Paolo il 45. Quindi, insomma, proprio il timing non è stato proprio... Guarda, qui secondo me il tema è molto legato... Vediamo, la barriera è di tipo europeo, quindi c'è margine, pure se viene toccata c'è margine poi di risalita, perché alla fine la barriera europea conta soltanto alla fine della storia. Ora, la barriera per 2,7... 2,7 stiamo parlando di probabilmente il titolo del Banco Santander. Poi c'è il 36,91 che è BNP e 1,73 che è... Intesa. La barriera, vabbè questa è andata, il coupon condizionato di 0,70 a cadenza mensile, ok? Autocollable sì, quindi c'è la possibilità, sì, però l'autocollable su questo... Mi sembra che, insomma, deve succedere parecchie cose belle per andare a riprendere il... Sì, molto ottimismo per andare a riprendere il fixing che faccia in modo di avere il prodotto richiamato. Non la vedo possibile in queste condizioni. Invece, coupon incondizionato di 10 euro, che mi pare di capire qual è, è quello già staccato o non ancora? No, non credo l'abbia staccato questo. No, non l'ha ancora staccato. Eh, non è stato felice il timing. Ora, di entrata sul comparto più che altro, non sul prodotto, perché le banche poi... E infatti, guardate qua, dallo specchietto che ci dà di riassunto il sito, c'è Banco Santander che ha perso il 50, BNP ha perso il 50, intesa il 45, quindi è proprio... È una bella sfida questo tenerselo o venderlo, però venderlo adesso 89 e perdi parecchio, 51 e 35. Boh, tu che dici di Lorenzo? Onestamente, Emeric, nel mio... Diciamo, io sono un trader poco paziente. Qui aspettare il 2023, per eventualmente, perché questa è la barriera discreta, sostanzialmente la fotografia a scadenza, non fa parte del mio modo di ragionare, nel senso che devi pensare al costo di opportunità, del denaro che tieni bloccato su questo strumento, che potrebbe lavorare altrove meglio, no? Questo secondo me è il ragionamento che bisogna fare. Ok, io aspetto, però quei 100 euro che ho messo lì, se li smobilito, che cosa ci avrei potuto fare da qui a tre anni? Magari li facevo lavorare meglio, piuttosto che attendere un po' passivamente. Quindi non sono per attendere, certe volte bisogna anche chiudere subito e ripartire. Va bene, dai, l'ultimo che ci avevi portato, che ci abbiamo ancora, cioè siamo già fuori tempo, però dai facciamo... Vabbè, velocissimo, questo è semplice, Adidas D-000HV 44535. Questo è uguale come meccanica a quello che abbiamo visto su Prismian, che insomma era assolutamente interessante. 44535, scusami? No, D-000HV 44535, JD Juventus. Ah, J5, ok, J5, perfetto. Ok, qui diciamo è molto simile nella struttura a quello di Prismian, scadenza uguale, barriera profonda, 25% la discesa e rendimento ancora maggiore, 7%, quindi assolutamente diciamo nella struttura è analogo a Prismian, bisogna aspettare solo 50 giorni, circa 50 giorni e anche questo onestamente è un premio a rischio che è accattiva perché considera che anno su anno è il 48% e quindi insomma anche questo sembra veramente interessante. Beh, non è male neanche questo, sì sì sì, assolutamente, anche questo non è male. Buongiorno, qual è la differenza tra coupon condizionato e coupon incondizionato? Beh, questo è semplice, il coupon condizionato te lo danno se rispetti una condizione, il coupon incondizionato te lo danno in qualsiasi cosa succeda. Bastante semplice. Era facile. Va bene, caro Pietro, siamo, sì questa è facile ragazzi, la domanda era abbastanza facile. Senti, non mi ha messo in difficoltà. Pietro, io ti ringrazio per essere stato con noi come sempre, è un piacere, Pietro Di Lorenzo, SST3. Ciao Pietro. Ciao Pietro.